cosa è successo ancora fra selvaggia lucarelli e sonia bruganelli la giornalista smentisce di nuovo le parole dell'ex di bonolis tra selvaggia lucarelli e sonia bruganelli la situazione è sempre più tesa cosa è successo adesso la concorrente di ballando con le stelle e la giudice della trasmissione non sono mai andate d'accordo dalla prima puntata infatti i loro battibecchi in diretta hanno regalato ai fan di questa edizione del programma di milly carlucci dei momenti di grande tensione ora però la situazione è cambiata ancora una volta durante il corso dell'ultima puntata sonia bruganelli ha sottolineato che i fan di selvaggia lucarelli debbano pagare un abbonamento mensile per seguire la sua newsletter se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento così lo racconti perché più di una volta hai parlato di me però dovevano pagare per leggere dopo queste parole selvaggia stessa rispondendo alla frecciatina di sonia ha rincarato la dose in questo modo perché farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto io non ho avuto fidanzati o mariti ricchi quindi mi guadagno da vivere capisci l'ex moglie di paolo bonolis è stata difesa da molti famosi e non ma cosa è successo nelle ultime ore la versione di sonia bruganelli sonia bruganelli ieri pomeriggio è stata ospite di alberto matano nello studio della vita in diretta l'ex moglie di paolo bonolis ha raccontato del vero motivo per il quale ha preso male le parole di selvaggia lucarelli contro di lei e poi è tornata a parlare del pettegolezzo secondo il quale a detta della giornalista l'imprenditrice avrebbe voluto il suo posto nella giuria di ballando con le stelle ecco le parole di sonia io non parlavo della professione di selvaggia e a contenuti giornalistici a pagamento mi riferivo a me e lei su quell'argomento cioè il fatto che io volessi fare la giurata al posto suo era la sua opinione e da un punto di vista giornalistico sia importante il confronto e la doppia opinione e ancora forse era più giusto e carino che ne parlassimo in presenza se ho sottolineato che lei guadagna sulla mia persona oddio in quel caso si l'ha fatto ma scusatemi è elegante che lei dica in diretta che io sono sposata con una persona ricca io non avrei mai parlato di quell'argomento se lei non mi avesse provocato mi ha detto pensi di avere qualcosa da dire sonia bruganelli sul presunto furto del ruolo di selvaggia lucarelli a ballando con le stelle poi ha aggiunto quanto segue se io volevo fare la giurata al posto suo andiamo per gradi a me due anni fa è stato chiesto se volessi fare la concorrente non era il momento giusto e allora ho detto l'unica cosa che posso fare se dovesse cambiare la giuria è di fare un provino per fare la giurata sempre sullo stesso tema sonia ha rivelato che milly ha detto io la giuria non la cambio e io ho detto che non avrei ballato poi le circostanze sono cambiate e quest'anno invece ho accettato di scendere in pista lei dice che arrivo con un copione e mi preparo le risposte non è vero c'è una cosa che non notate lei mi ha detto una cosa che a me ha dato molto fastidio ha detto tu pensi che ci sia qualcosa da dire su di te non ero entrata con l'idea di attaccarla sulla newsletter la versione di selvaggia lucarelli proprio durante la puntata in diretta della vita in diretta roberto alessi ospite del programma ha menzionato la presunta amicizia che ci sarebbe stata in passato fra sonia bruganelli e selvaggia lucarelli a questa domanda l'ex moglie di paolo bonolis ha risposto affermativamente ecco le sue parole se prima eravamo amiche e c'era un rapporto si prima c'era un rapporto non faccio dichiarazioni di pace facciamo finire il programma non voglio che sembri captati o benevolenze però rispetto e ammiro le donne intelligenti adesso siamo su fronti opposti ma finita la puntata è finito l'alterco poi magari ricomincia il sabato dopo ma preferisco gli sconti con lei che le false carezze proprio dopo questo intervento alberto matano prendendo il telefono in mano ha lasciato tutti senza parole con questa dichiarazione attenzione selvaggia mi sta scrivendo dice che non siete mai state amiche e non c'è mai stata un'amicizia sonia non ha gradito questa intrusione da parte della giornalista e ha voluto ribattere cosa ha detto la risposta no vabbè ma devo entrare nel dettaglio lei in passato prima di ballando con le stelle è venuta ospite da me ai libri di sonia a presentare un suo libro e io l'ho intervistata per un suo libro che tra l'altro era anche molto forte e se vogliamo dirla tutta purtroppo non ho potuto mandare la puntata su mediaset infiniti perché mi pare che lei avesse una causa con mediaset infine sempre sonia bruganelli su selvaggia lucarelli e la loro presunta amicizia ha aggiunto concluso in questo modo quindi tra l'altro se dobbiamo entrare nel dettaglio è stato anche lavoro ma io comunque ho stima sabato ci siamo anche salutate all'uscita del programma finita qui ovvio che no la giornalista smentendo ancora una volta le parole dell'imprenditrice ha riferito via instagram queste parole non ho alcuna causa con mediaset sono stata anche ospite di bianca berlinguer pochi mesi fa sonia bruganelli ha riferito una cosa falsa alla vita indiretta io boh e ora cosa succederà